Che bisogna chiedersi è perché c'è tutta questa gente che viene in Svizzera e non viene perché lo vuole la sinistra, collega qua. Questa gente viene in Svizzera perché in Svizzera abbiamo un mercato del lavoro che esige, pretende, ha bisogno di manodopera. E questa è la verità, perché le persone che vengono in Svizzera non vengono qua per non fare nulla, vengono qua per lavorare, perché altrimenti la stragrande maggioranza di queste persone non potrebbe venire in Svizzera. E il fatto che ci sia questo bisogno di manodopera è anche dovuto a politiche fiscali volute soprattutto dalla destra che mirano ad attirare aziende dall'estero. E quando queste aziende arrivano poi in Svizzera, ne arrivano 250 circa all'anno in Svizzera, quando queste aziende arrivano in Svizzera che è già in una situazione di carenza di manodopera specializzata è chiaro che devono importare anche lavoratori e lavoratrici. Grazie a tutti.